Procediamo con un nuovo momento di riflessione che ti vede protagonista Manuela insieme agli altri ospiti del CEO Summit, un CEO Summit dal titolo che speriamo naturalmente possa essere di buon auspicio e di ispirazione, ovvero sostenibilità e futuro, perché le aziende devono essere sostenibili? Io invito a salire sul palco i relatori, ovvero Angelo Amaglio, presidente di Chintesi, un bel applauso per lui e poi ancora Onofrio Mastrandrea, Associate Vice President General Manager Italy Insight, accomodatevi pure, benvenuti, io vi lascio il palco e ci vediamo dopo per la premiazione. Grazie Valentina, naturalmente esatto, tra poco ci rivedremo ancora tutti insieme per la premiazione, benvenuti anche da parte mia naturalmente, da parte di tutte le fonti. Il titolo è simbolico e nello stesso tempo pratico, propongo così questo dibattito che in realtà più che dibattito è un confronto. Sostenibilità e futuro perché la parola sostenibilità rientra necessariamente nel futuro e rientra in quello che è il programma delle aziende se vogliono essere competitive, però insomma noi ne parliamo in un momento nel quale si devono fare i conti anche con una realtà insomma un po' difficile, un po' particolare. Siamo anche alla fine del 2022 quindi possiamo fare un primo bilancio e guardare veramente in prospettiva futura al 2023. Allora come prima domanda che poi ripeto non sono domande ma sono anche degli spunti che io vi voglio mettere sul tavolo e voglio che voi raccontiate la vostra esperienza quindi la prima parte un po' raccontare anche la vostra realtà per capire un po' come vi approcciate al mercato. Io partirei da Angelo Amaglio, però la stessa domanda. Vostra esperienza, le sfide più importanti del momento, quali sono le strategie che unendo proprio tutte queste parole che abbiamo voluto mettere sul tavolo vi sentite di raccontare questa sera? Bene, grazie per l'opportunità e buonasera a tutti. Allora ragionando appunto e usando le parole chiave noi è da un po' di tempo che parliamo di innovazione sostenibile. Noi Chintesi è una realtà che si occupa di consulenza manageriale, di system integration e quindi il tema dell'innovare, portare contenuti di valore ai nostri clienti è fondamentale. Ultimamente appunto questo connubio, questo binomio innovazione e sostenibilità ricorre e cerchiamo, stiamo cercando di adattare le nostre prassi sia interne sia a livello di contenuti della nostra offerta proprio per cercare di declinare, di interpretare al meglio queste due parole chiave. Uno appunto, non mi soffermo ma ne abbiamo parlato anche prima parlando, ascoltando il professore sul tema del brand, l'innovazione non è l'unico elemento però è comunque una condizione necessaria per appunto evolvere, cambiare e arricchire diciamo i contenuti, i propri servizi. Il tema della sostenibilità è un tema assolutamente attuale, delicato e molto complesso perché spesso si vede anche un po' di superficialità, viene utilizzato questo termine in modo un po' superficiale e forse abusato. Allora noi abbiamo provato a fare qualche riflessione per noi sostenibilità vuol dire, come dicevo, adattare i nostri schemi, le nostre policy interne per due motivi. Uno molto concreto, noi serviamo clienti importanti, grandi clienti che ci chiedono e chiedono alla loro filiera di fornitori di avere determinati standard. Qualche anno fa quando è diventato attuale il termine qualità, tutti si sono mossi per la certificazione, la qualità, adesso sta succedendo un po' la stessa cosa, quindi stimoli esterni che accelerano e quindi se tu vuoi essere una filiera sostenibile devi adottare determinati standard e questo ci ha forzato internamente. Dall'altra parte cerchiamo di cogliere anche questa come un'opportunità di business e quindi fornire anche a nostra volta soluzioni e servizi che consentano appunto ai nostri clienti di interpretare la sostenibilità e per quello che è il nostro ruolo e le nostre competenze in termini di costruzione di indicatori, di rendicontazione e di meccanismi appunto per esprimere anche il concetto di sostenibilità. Lei sta già dimostrando a parole ma insomma anche nei fatti perché poi in realtà è quello che fate tutti i giorni che la parola sostenibilità così come ha detto lei non è qualcosa di astratto ma è qualcosa di molto pratico eppure quando si parla di temi come la sostenibilità si pensa che sia qualcosa lì no ma sì prima o poi no accadrà come se si pensasse che in qualche modo accadrà da solo qualcosa invece no bisogna agire per fare io sto dicendo una cosa molto banale però è il punto a cui voglio arrivare questa sera e dopo cercheremo anche di capire quanto è complicato più complicato il raggiungimento degli obiettivi sostenibili con la crisi che stiamo attraversando oggi quindi ci arriviamo tra poco però assolutamente tutto collegato. Massa Andrea a lei stessa domanda con un focus sulla vostra attività e le strategie che a vostro parere stanno andando in questa direzione. Innanzitutto grazie e buonasera a tutti e ovviamente io rappresento oggi Insight, Insight ha fatto praticamente dell'innovazione il proprio DNA e ha saputo interpretare anche il significato di innovazione in maniera evolutiva. Noi sappiamo che 30 anni fa l'innovazione era generata solo ed esclusivamente da top player del mercato che chiaramente avevano una capacità di investimenti molto importanti e avevano chiaramente delle competenze esclusive ma nell'ultimo ventennio il concetto di innovazione è variato molto, sono entrati nel mercato tantissime startup che con competenze esclusive hanno portato un altissimo grado di innovazione. Ebbene Insight a livello globale nasce proprio nel solco di questo processo, nasce nel 2002 quindi siamo praticamente a vent'anni dalla fondazione negli Stati Uniti, nasce nel Delaware da un gruppo di 22 ricercatori che si erano dati l'obiettivo ambiziosissimo di portare allo sviluppo candidati clinici prodotti farmaceutici che fossero best in class o first in class in patologie con un altissimo bisogno insoddisfatto. Quindi questa è la nostra esperienza. Noi abbiamo fatto chiaramente della ricerca l'asset principale, l'asset fondamentale e l'abbiamo saputo declinare in tutte quelle patologie dove esistevano bisogni insoddisfatti. Nasciamo come un'azienda orientata e focalizzata alla ricerca in ambito oncologico ed amatologico e negli ultimi anni invece ci affacciamo anche alla diversificazione del nostro portfolio prodotti e della pipeline con appunto l'ingresso in aree come la dermatologia che ha portato chiaramente i suoi risultati già particolarmente importanti. Basti pensare che l'agenzia regolatoria del farmaco a livello statunitense ha approvato il primo farmaco per il trattamento della vitiligine. Ma come in Italia abbiamo declinato poi l'innovazione? L'abbiamo declinata portando il valore della ricerca. Basti pensare che in Italia l'agenzia regolatoria del farmaco, l'AIFA, ci ha insegnati appunto di un titolo e di un riconoscimento molto importante. cioè inclusi per diversi anni tra le dieci aziende che investono di più in ricerca e sviluppo in Italia per numero di studi clinici sottomessi. Semplicemente per darvi dei numeri. Noi ad oggi abbiamo all'incirca una ventina di candidati clinici in sviluppo in Italia con all'incirca una quarantina di studi clinici in patologie con un alto bisogno insoddisfatto. Bene, questo è esattamente il link con la sostenibilità perché la ricerca ha in sé il valore intrinseco della sostenibilità e lo declino per sintesi molto velocemente perché la ricerca genera un valore economico, ovviamente è stato ben teorizzato, ben studiato che ogni euro investito in ricerca clinica da parte di un'azienda in Italia genera un valore tre volte pari all'investimento per il sistema sanitario nazionale. Quindi la relazione è uno a tre. Le stavo chiedendo, guardi, l'avevo anche scritto per farle vedere che non sto mentendo, è banale dire che se si è innovativi come nel vostro DNA sia anche sostenibili? Assolutamente, noi cerchiamo praticamente di conciliare l'innovazione con la sostenibilità ma la sostenibilità la decliniamo in maniera molto ampia perché come diceva appunto il collega che è qui presente sul palco come oggi, ovviamente la sostenibilità è stata declinata solo ed esclusivamente nella sostenibilità ambientale ma la sostenibilità è un concetto particolarmente ampio e noi ne abbiamo fatto la declinazione, una declinazione virtuosa di sostenibilità perché generare un valore per il sistema sanitario è un qualcosa di estremamente virtuoso. D'altra parte però non è solo un valore economico, spesso vengono trascurati minimizzati il ritorno, il valore culturale di portare ricerca in Italia e il valore chiaramente che questa ricerca genera anche in termini di acquisizioni tecnologiche che poi alla fine vengono messe a disposizione del trattamento dei pazienti. Quindi per riassumere la nostra esperienza nasce con la ricerca, la nostra core activity e la ricerca e ovviamente le sfide quali sono? Quelle di far sì che, come abbiamo sentito dalla relazione precedente, l'innovazione sia in grado di sostenere se stessa nel tempo, di generare e alimentare un'innovazione sostenibile a lungo termine perché questa è la sfida fondamentale. E poi la metteremo in relazione anche con lei con i tempi attuali. Sì perché poi ovviamente il ritorno, lei ha parlato di ritorno, è fatto da molteplici fattori, quindi adesso lo vedremo insomma con entrambi. Il ritorno dal dottor Amaglio per, insomma, si agganci anche a quello che diceva il suo collega sul palco perché è importante, però poi arriviamo al presente, insomma, faccio una piccola provocazione, facile dire sì siamo sostenibili, dobbiamo essere sostenibili, dobbiamo essere attrattivi, chi più ne ha più ne metta, però se non abbiamo le risorse come facciamo? In un momento in cui davvero dobbiamo, parlo in generale ovviamente, dobbiamo fare i conti con quello che sta succedendo anche indipendentemente da noi, anche con fattori esogeni che non possiamo controllare, come fare a mantenere sempre questo standing elevato? Sicuramente è una sfida non semplice, però mi lasci dire che quando si è di fronte anche a sollecitazioni come quelle che abbiamo vissuto, l'avete ricordato voi, voi siete riusciti a continuare a mantenere le vostre iniziative anche in momenti critici come quelli della pandemia. Ecco, quindi noi abbiamo fatto delle riflessioni interne e quindi pensando appunto a noi come azienda il concetto della sostenibilità l'abbiamo legata e l'abbiamo vissuta e abbiamo cercato poi di amplificarla, di valorizzarla anche proprio in questi momenti, cercando di collegare il concetto di sostenibilità anche ad aspetti concreti, quelle che poi chiamiamo anche business continuity, cioè per essere sostenibili bisogna garantire continuità all'azienda. Noi, come ho detto, siamo un sistema integrato, siamo una people company, quindi una persona fatta di, scusi, un'azienda fatta di persone con competenze che sono intangibili, ma il capitale umano è fondamentale. Noi in qualche modo proponiamo e siamo percepiti dal cliente attraverso le nostre competenze servizi delle nostre persone. Quindi in momenti come questi ci siamo subito posti il problema di gestire in modo attivo e supportando anche appunto tutte le nostre persone in momenti difficili, sia sul piano personale, sia sul tema delle relazioni, perché sì, è bello lo smart working, le opportunità che offre la tecnologia, ma in momenti anche di socializzazione, di condivisione, i problemi persone, insomma, li abbiamo vissuti tutti. Quindi per noi sostenibilità, come diceva il collega, non è solo intesa come sostenibilità ambientale, basse emissioni, eccetera, ma sostenibilità anche sociale, vicinanza ai territori. Un altro slogan che noi usiamo e stiamo cercando di interpretare è quello di territorialità diffusa. Sempre facendo riferimento al settore che conosco, quindi il settore della consulenza, fino a poco tempo fa, come dire, Milano, siamo qui appunto nel cuore, le grandi società multinazionali e nazionali della consulenza sono radicate a Milano, quindi tutte le persone, i giovani, vengono a studiare a Milano e quindi il riferimento. Bene, con la pandemia è cambiato tutto, quindi ci sono molti flussi di ritorno, giovani e meno giovani che ritornano, che sono venuti magari dal suo... Ecco, noi stiamo puntando su un modello appunto di territorialità diffusa, ovviamente abbiamo gli uffici a Milano, ma stiamo cercando anche attraverso operazioni e partnership e acquisizioni di altre società di essere distribuiti territorialmente. Recentemente, in controtendenza, ritornando al tema dell'innovazione, ci siamo insediati al Chilometro Rosso, che è un Innovation District conosciuto, che però non è vicino a mezz'ora da Milano, ma è su Bergamo. Abbiamo una sede a Brescia, una a Mantua, una a Marcon, vicino a Venezia. Abbiamo un ufficio a Roma. Quindi stiamo puntando su poli un po' più distribuiti per valorizzare le competenze che sono presenti anche, quindi valorizzando le relazioni con il territorio, con le università, con le organizzazioni confindustriali, proprio per poter creare questo network e questa, diciamo, territorialità diffusa. Quindi questa è una risposta. Lei mi ha risposto giustamente alla domanda che ho fatto. Come riuscire a raggiungere obiettivi in periodi di crisi? Mi ha portato l'esempio che avete, diciamo, seguito con la precedente crisi, quella pandemica, per cui poi c'è stata un'inversione di tendenza, quindi giovani, soprattutto, ma insomma persone che lasciavano la grande città per andare in altri paesi, barra città, e voi avete seguito fondamentalmente questo trend. Quindi basta, come si suol dire, essere sul pezzo e conoscere cosa offre il mercato in quel momento. Quindi è quello che state facendo anche in questa crisi, che è diversa, ma insomma il concetto poi, la sostanza non cambia, si è rimesso un po' in discussione tutto. Corretto? È corretto. È un bel approccio questo, se vi posso permettere. Vorrei sapere cosa ne pensa anche il dottor Massandrea, naturalmente poi portando la sua considerazione, la vostra considerazione rispetto alle difficoltà che ci sono oggi nel portare avanti, le strategie di cui ci parlava precedentemente. Sì, il contesto è particolarmente noto in termini praticamente di sfide e il contesto chiaramente economico richiede una riflessione molto particolare, ma al tempo stesso l'innovazione diventa volano di crescita anche nei momenti di crisi. Basti pensare che solo negli ultimi sei mesi Insight Italia ha portato al letto del paziente due nuovi farmaci, interagendo con le autorità regolatorie e permettendo chiaramente la rimborsabilità di due farmaci in due settori dove non si vedeva innovazione da circa vent'anni. Ovviamente noi quando pensiamo all'innovazione possiamo pensare a diversi livelli di innovazione. Il primo livello di innovazione può essere qualcosa di breakthrough che completamente diventa nuovo perché chiaramente c'è un'assenza assoluta di farmaci in quella rete terapeutica e noi abbiamo chiaramente rimborsato uno di questi farmaci proprio in Italia, mettendolo a disposizione per una serie di pazienti che non avevano una novità terapeutica da oltre vent'anni e abbiamo portato al letto del paziente la prima terapia target. La seconda innovazione, declinazione dell'innovazione è sicuramente l'innovazione come miglioramento di qualcosa di preesistente in termini chiaramente di ottenimento di migliori risposte, di un'efficacia maggiore. E anche qui noi abbiamo lavorato tantissimo portando, rimborsando un secondo prodotto in un'area che è quella del linfoma diffuso a grandi cellule. Ultima declinazione dell'innovazione è anche chiaramente l'innovazione che diventa sostenibile nella socialità e che quindi praticamente ha un impatto sociale. Anche qui facevo l'esempio prima di un prodotto molto innovativo che è stato già approvato negli Stati Uniti che appunto per il trattamento della vitiligine. Bene, lì basti pensare che la vitiligine ad esempio rappresenta il classico esempio in cui il 20% dei costi sono sanitari e l'80% dei costi sono sociali. Quindi chiaramente permettere la riabilitazione della funzione sociale dei pazienti innanzitutto impegna l'azienda pienamente all'interno della socialità. Quindi il farmaco diventa uno strumento di riabilitazione della funzione sociale che quindi chiaramente ha un impatto molto più ampio rispetto a quello che chiaramente si possa pensare. Certo. Ecco, visto che adesso volevo arrivare alla conclusione di questo confronto però riprendendo magari alcuni punti che vi sentite di trasmettere alla platea perché poi queste serate i nostri words oltre a celebrare le eccellenze vogliono creare sinergie che credo, insomma potete dire un'altra parola chiave, ne abbiamo dette tante questa sera però insomma quello fare rete, sinergia forse lo abbiamo scoperto ancora di più dopo la pandemia e quindi è un insegnamento che ci siamo portati appresso. Ma visto che tra poco su questo palco celebreremo il successo di tante realtà se mi dovessi chiedere altre tre parole chiave, vediamo se riusciamo a trovarne tre a testa di più se ne avete per definire il successo, quali ci direste? Non so se tre bastano ma proviamo a rispondere a questa sollecitazione sembra scontato ma noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle sicuramente tanta determinazione tanto lavoro, tanto impegno. Il nostro percorso Kintesi è relativamente giovane, dieci anni con questo assetto, con questo marchio, con questo brand ma la storia professionale nasce prima, con quel signore seduto là da più di 35 anni che amabilmente discutiamo, litighiamo, costruiamo ma in qualche modo portiamo avanti le iniziative e gradualmente abbiamo aggregato altre 350 persone insieme a noi. Quindi determinazione e tanto lavoro è un primo punto. Sicuramente un altro elemento è la capacità di mettersi in discussione con tanta umiltà quindi senza pensare di essere più bravi o che gli altri non siano in grado di offrire servizi qualitativamente con contenuti altrettanto validi. il fattore C sicuramente un po' di fortuna non guasta. Quella sempre. Esatto. E ne aggiungerei ultimamente una quarta parola su cui stiamo puntando, ripeto, proprio nello spirito anche di cambiare, un po' di mettersi in discussione, contaminazione di esperienze e di culture perché affrontare i problemi con modalità e con approcci, c'è chi parla di pensiero laterale, insomma, comunque contaminazione di culture, esperienze e background. Certo, a livello economico la storia ci insegna che quando ci siamo chiusi, in generale, non noi solo come Italia, come mondo, in noi stessi ci sono stati dei problemi non indifferenti, insomma. E quindi questa ultima parola, contaminazione, riunisce un po' tutti. Massa Andrea, le sue parole invece, quali sono? Sì, allora ne abbiamo detto, ne abbiamo individuate già alcune durante appunto lo speech precedente. La prima è sicuramente innovazione, ricerca, ma vorrei aggiungere qualcosa di più, la partnership, perché chiaramente questo consente di condividere ovviamente i successi e soprattutto individuare anche l'esigenza della controparte. Fare partnership consente di fare alleanze, alleanze che possono generare un valore virtuoso all'interno del sistema e che possano chiaramente portare all'identificazione di alcune soluzioni a problemi ancora aperti. L'altro atteggiamento è l'atteggiamento di apprendimento continuo, perché ovviamente l'attitudine dell'apprendimento è stata particolarmente significativa durante tutta l'emergenza pandemica, ad esempio. E noi siamo un esempio di azienda che è riuscita a reagire in sole due settimane tempestivamente nel garantire la business continuity. Siamo stati primi a livello globale ad essere impattati e siamo stati praticamente i primi ad avere una reattività molto veloce. E l'altro è l'attitudine dell'ascolto, perché se non si ascolta la controparte, comprendendo le esigenze degli altri, di tutti gli attori dell'ecosistema nel quale operiamo, rischiamo di essere autoreferenziali e non rischiamo chiaramente di trovare soluzioni per gli altri e quindi generare valore per il sistema e non per noi stessi. Ed è anche per questo che ho voluto chiamarlo dialogo questo, quello di questa sera. Facciamo un bel applauso ai nostri relatori. Angelo Amaglio, presidente Chintesi e Onofre Massandrea, Associate Vice President General Manager per l'Italia di Insight. Grazie naturalmente per i suggerimenti e anche l'esperienza diretta che è sempre quello che conta di più, insomma, al di là delle tante chiacchiere. Chiacchiere sì sono sempre utili, ma attraverso degli esempi concreti. Quindi grazie mille, buon proseguimento di serata. Grazie ancora.